Ciao a tutti, oggi prepareremo la pagnotta soffice al formaggio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manidoba, latte, olio evo, lievito di birra fresco, acqua, sale, zucchero, uovo, mozzarella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, l'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina, l'uovo, il sale e l'olio. Facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. Trasferire in una ciotola ben infarinata, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo trasferiremo in una teglia rivestita con carta da forno. Allarghiamolo con le mani. con una lametta fare dei tagli. Lascerli evitare in forno spento per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso ripassiamo la lama sui tagli. Mettiamo le fettine di mozzarella. Mettiamo il latte nel torlo d'uovo e spennellare su tutta la superficie. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-25 minuti circa. La pagnotta è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Pagnotta soffice al formaggio. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!